Partiranno a giorni i lavori del laboratorio dell'Università di Chieti di Architettura di Pescara che riguarda Morro d'Oro, il centro di Morro d'Oro. Su cosa si applicheranno? Sì, parteranno a breve, a fine mese. In realtà si concentreranno su un laboratorio urbano proprio sul territorio di Morro d'Oro, come abbiamo specificato. Verranno studenti di architettura dell'Università d'Annunzio di Chieti con la quale abbiamo stipulato già una convenzione il 18 novembre. Questi ragazzi presenti sul territorio coinvolgeranno anche alcuni tecnici del nostro comune e inizieranno uno studio urbanistico sul territorio diretto dal professor Di Venosa. Questo studio consiste in una fase di consultazione anche con tutti i principali stakeholder del territorio, associazioni di categorie, associazioni anche enti territoriali e settori economici. Dopodiché seguirà una fase anche di divulgazione di questo studio in seguito alla consultazione. Quindi alla fine verrà anche, diciamo, redatta un'agenda di laboratorio, detta così, dove appunto noi andremo a progettare quello che viene fuori dallo studio di queste consultazioni, una riqualificazione urbanistica del territorio di Morro d'Oro. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione è una riqualificazione urbanistica del territorio? Esattamente, lo scopo, l'obiettivo è proprio questo, deve venire fuori chiaramente prima da uno studio professionale, oltre che dal solo amministratore che decide di ridare un cambio urbanistico al territorio. Dopodiché è sceso appunto con le attività, con i residenti e con tutte le attività del posto e alla fine deve venire fuori una progettazione mirata anche per una finalità di riqualificazione strategica su tutto il territorio, in seno anche alle proprie attività che ci sono.